ciao a tutti ragazzi io sono robbie e bentornati sul mio canale oggi facciamo un video unboxing perché mi è arrivata una nuova elves box di soffi and toffi è la seconda che porto sul canale e vi lascio qui una card se vi siete persi la prima apertura anche se devo dire la verità io ho un attimo sbirciato il fogliettino che si trova all'interno della box e sono rimasta un po confusa perché l'altra infatti vedete gamelicious era la elves box di giugno invece questa è quella di maggio ed è quella tema bubble tea caffè comunque non importa nel senso che sappiamo che proprio per la situazione covid le spedizioni hanno avuto dei problemi e quindi la apriamo dopo quella di giugno ma non c'è problema allora apriamo un pochino e vediamo che cosa abbiamo trovato vediamo un po andiamo a vedere subito gli stampini allora questi li apriamo un secondo dovrebbero essere perché io seguo soffi and toffi anche su instagram quindi so già più o meno che cosa mi arriverà dovrebbero essere dei degli stampini dei mules proprio per fare i bicchierini del bubble tea quindi questa è la base dei bicchieri questo ha e certo svegliona c'è un pelo l'ho tirato fuori adesso praticamente mettete la resina all'interno e poi premendo così e vi si fa solo il il guscio diciamo del bicchiere non so se mi sono spiegata bene questo è per fare il sopra cioè il coperchio no quindi per capirci questa parte superiore qui ovviamente con l'altra parte da mettere così ma non ho capito che cosa sono questi pelucchi ok e poi ci sono anche gli stampini per fare le cannucce che meraviglia bene 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 con queste cosine si possono fare questi mini bubble tea veramente graziosi poi c'è questa bustina in cui la vado un attimo ad aprire no vabbè ad ora ragazzi cioè all'interno ci sono anche tipo queste posatine di plastica perché così magari voi potete fare dei mini set di cibo e di cosine per la merenda ci sono anche le bacchettine due cucchiai il coltello ma ci sono anche tanti tantissimi di questi bicchierini coppettine ciotoline dove noi possiamo andare ad inserire la resina magari resina ovvi perché tanto sono tutti trasparenti possiamo inserire la resina e fare la nostra bevanda ci sono anche queste ciotoline meravigliose queste cose e possiamo fare anche dei ciondolini in questa maniera mi piace tantissimo poi abbiamo questi tre pigmenti che sono dei pigmenti per andare a creare secondo me proprio il colore del tè perché bianco marrone e giallo bene bene e sono per la resina non so se sono per la resina ovvio per la resina normale comunque questi fanno sempre comodo poi c'è una busta guardate la bustina quanto deliziosa e questo color art racing ok questa è il colorante bianco dovrebbe essere per la resina ovvi perché voi sapete che se fate il colore troppo carico in pratica la resina ovvi non si asciuga perché raggi ovvi non riescono a penetrare all'interno della resina e questo invece è fatto apposta quindi top anche perché a me la resina ovvi non mi si asciuga mai poi abbiamo la resina ovvi per gli stampi in silicone da 60 grammi quindi top poi mettiamola così così la vedete poi abbiamo dei frutti oh mamma mia ce ne sono di tantissimi tipi questi quindi queste che ne infimo ce ne sono di tantissimi tipi e questi servono alla grande perché magari noi facciamo il nostro dolcettino questo è un pentolone da strega cioè ho preso l'unico che non andava bene noi facciamo il nostro dolcetto quindi non so un gelato un frullato il milkshake quello che vi pare e poi ci mettiamo sopra che ne so la fragolina e lampone ed è delizioso deliziosa questa cosa benissimo poi ci sono qui questi adesivini che possiamo attaccare penso ai nostri stampini però gli stampini li vedo piccoli per questi adesivi poi leggeremo sul booklet comunque sono deliziosi sono tutte delle mini etichette vedete parfum sweet orange strawberry lavender eccetera eccetera adorabili guardate questo true love may like a star shine on you possa la stella fortunata splendere su di te bellissimo ok poi allora ma un vero bubble tea deve avere le boba bits ed eccole qua sono carinissime le perderò tutte aprendo semplicemente questa bustina io già lo so bene poi abbiamo un altro stampino che dovrebbe essere uno stampino per i pancake mi pare perfetto e lo mettiamo qui è tutto molto 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 mini diciamo non so se avete notato scusate ragazzi ma che cos'è cioè questo è un bicchierino già pronto con la cannuccia ma guardate quanto è adorabile questa cannuccia è quanto è piccola guardate la mia unghia in confronto e questo è sicuramente da riempire ecco si può fare il colore del tè metterlo dentro mettere dentro le boba bits ed ecco qui c'è un ciondolino stra stra bello poi abbiamo la mi sta venendo un dubbio ma questo forse non è colorante questo è per fare la crema si color art resin ok ok scusate ragazzi no questo è per fare la whipped cream insomma no per fare l'effetto panna montata evviva e abbiamo tutti i beccucci che penso si possano inserire direttamente qui cioè spettacolo spettacolo e poi abbiamo queste bustine qui che adesso ve le mostro una ad una allora questi sono cubettini di ghiaccio finto perché ovviamente magari nel tè nelle bevande ci stanno bene i cubetti di ghiaccio estate fa caldo poi che cosa abbiamo questo che è del ghiaccio invece tritato vedete che qua c'erano i cubetti tutti precisini questo ghiaccio tritato se volete fare una cosa un pochino meno precisa insomma e poi abbiamo questo che è lo zucchero finto e hanno fatto un po' come il sale il sale grosso e il sale fino zucchero grosso e zucchero fino però questo è il zuccherino insomma finto e ho tirato fuori tutto quello che c'era nella mia elves box di maggio andiamo a vedere un attimo il booklet che cosa ci dice e ci dice ok questo ci avevo preso ci ho preso sì 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 bobbati questo è lo zucchero e il ghiaccio ok whipped cream nozzles quindi ecco queste sono ovviamente i beccucci per fare la panna montata finta e questa è la panna montata finta è made in japan cafe team raisin film ok vabbè mi dovrò vedere un tutorial e poi qui ci sono dei suggerimenti per andare a fare delle creazioni con questo materiale che abbiamo trovato nella elves box buttiamo giù tutto brava me hashtag brava me come sempre ormai è diventato il mio motto bene ragazzi io non vedo l'ora di mettermi all'opera con queste cosine creative ma per adesso il mio video finisce qui vi ringrazio sempre per il supporto e per il sostegno che mi date se il video vi è piaciuto lasciate un like e lasciatemi un commento per dirmi se questa box vi piace se la state acquistando anche voi o se la conoscevate insomma fatemi sapere tutto che sono sempre curiosa come una scimmia quindi per adesso vi mando un enorme bacione e ci vediamo come sempre al prossimo video ciao ciao